Dagauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Il ricorso del Movimento 5 Stelle per annullare i verbali elettorali e ricontare 700 schede già scrutinate è stato respinto dalla prima sezione del TAR di Salerno. La giustizia amministrativa conferma in primo grado, in attesa di possibili ricorsi al Consiglio di Stato, il risultato venuto fuori dalle urne nel giugno scorso, ballottaggio compreso. Il sindaco Vincenzo Ciampi, primo firmatario del provvedimento contro il comune di Avellino, il ministero dell'interno e l'ufficio centrale elettorale, dovrà continuare a far leva in Consiglio su un gruppo composto da 5 pentastellati eletti su 32 totali. Ciampi potrebbe naturalmente avere il supporto di quanti condivideranno singoli provvedimenti proposti da un governo comunque di minoranza. Le ragioni dell'inammissibilità del ricorso saranno rese note con il deposito delle motivazioni che saranno scritte dai magistrati giudicanti Riccio, Monica e Fontana. A promuovere l'azione giudiziaria non erano stati tutti i candidati 5 stelle, bensì 17. Ad opporsi in giudizio la prefettura di Avellino, l'ufficio centrale elettorale e i consiglieri comunali Pizza, Cipriano, Giordano, Leonardo e Gianluca Festa, Arace, Iacovaci, Petitto, Negrone e Maggio. Il centro-sinistra dunque conserva i 18 seggi assegnati. Restando in tema comune di Avellino si annunciano polemiche in merito alla composizione delle future commissioni consigliari. Il tema approderà in aula il prossimo 9 ottobre. Il criterio utilizzato per le scelte scatena le ire di quei consiglieri che avevano messo per iscritto una preferenza di assegnazione che è stata cestinata nei criteri utilizzati. Ma che senso ha litigare per commissioni che in caso di sfiducia sono destinate a sciogliersi anch'esse? E in caso di proseguimento dell'amministrazione Ciampi non determineranno scelte condivise, non essendoci maggioranza e minoranze chiare e costituite. Ai posteri l'ardua sentenza, all'aula martedì prossimo il dibattito, il Movimento 5 Stelle continuerà ad occupare 5 seggi su 32, il centro-sinistra 18 con il premio di maggioranza, ma gli scontri di questi tre mesi hanno detto che il tema vero resta quello dell'ingovernabilità del capoluogo. Grazie. Grazie. Grazie.